Ben trovati al consueto appuntamento settimanale Lega Informa, la trasmissione che vi tiene aggiornati su quelle che sono le attività, le proposte, le iniziative del gruppo consigliare regionale della Lega e quest'oggi abbiamo come gradito ospite Massimiliano Baldini, consigliere regionale della Lega, ben ritrovato Massimiliano con te analizziamo una tematica molto importante, molto rilevante che ha coinvolto purtroppo diversi nostri corregionali tra la fine di ottobre e i primi di novembre, parliamo quindi dell'alluvione e di come è stata gestita e come sta ancora la regione gestendo questa emergenza La Lega ha fatto diversi appunti ma non solo in maniera distruttiva ma principalmente in maniera costruttiva anche ricavando dei soldi che potevano essere messi a disposizione immediatamente degli alluvionati nella variazione di bilancio così non è stato, ora il Presidente Gianni dice che nel nuovo bilancio troverà 15 milioni ma chiedo a Baldini proprio di riassumerci quelle che sono state le tappe di questa purtroppo tormentata sotto tanti aspetti vicenda Sì in primo luogo nel salutare tutti tengo a dire che ovviamente c'è vicinanza da parte della Lega, da parte del gruppo regionale della Lega a tutti coloro che hanno ahimè avuto perdite familiari, che hanno avuto perdite dal punto di vista delle attività, dei danni agli immobili quindi sotto questo profilo ovviamente c'è un intento positivo e costruttivo però inevitabilmente questa è anche un'opportunità per fare chiarezza in quanto i cittadini, a maggior ragione coloro che stanno preparando le richieste di risarcimento debbono sapere che lo stato di emergenza ha due livelli Il primo è lo stato di emergenza regionale perché tutto nasce dal decreto che firma il Presidente Gianni la sera sostanzialmente, il pomeriggio inoltrato del 2 di novembre decretando appunto lo stato di emergenza regionale che si regge sulla base della legge regionale 45 2020 peraltro uno stato di emergenza regionale che era stato sollecitato la mattina stesso da parte della Lega che aveva svolto un sopralluogo proprio a Torre del Lago che è la frazione di Viareggio importante dove a seguito degli eventi che si erano già manifestati in modo così importante fra il 30 e il 31 di ottobre ben 15 famiglie erano state e sono tuttora sfollate da casa, oltre a tanti danni nella frazione quindi la Lega con l'europarlamentare Ceccardi, con l'onorevole Montemagni e anche con il sottoscritto insieme ai rappresentanti del territorio si era recata lì a Torre del Lago per vedere un po' la situazione in un quadro dove il tempo continuava a peggiorare e aveva chiesto lo stato di emergenza formalizzandolo anche attraverso degli atti in regione il presidente Gianni firma questo stato di emergenza regionale e poi interviene anche il governo con uno stato di emergenza nazionale cittadini devono sapere che lo stato di emergenza regionale è regolato dalla 45 2020 che è una legge regionale lo stato di emergenza nazionale è regolato dalla legge quadro che è il decreto legislativo 1 del 2018 il quale appunto a seconda della gravità e dell'estensione dei danni interviene decretando questo quadro, questo quanto abbiamo detto fino adesso e che succede? Il decreto di stato di emergenza regionale pronunciato dal presidente Gianni ha valenza per tutta la regione il decreto di emergenza nazionale ha al momento valenza solo per 5 province e qui è il primo problema, tant'è vero che è stata chiesta l'estensione almeno anche alla provincia di Lucca e di Massa che hanno avuto danni anche in particolar modo sul litorale perché penso a tante attività commerciali ma penso anche a tante attività imprenditoriale sul mare, i balneari che hanno avuto oggettivamente danni e la Lega si è impegnata da questo punto di vista perché ha messo in evidenza al presidente Gianni che nell'attesa che oltre ai 5 milioni che il governo ha immediatamente mandato come dire arrivi in ulteriori risorse in forza dell'ordinanza 1037 di Valenza nazionale ha chiesto che la regione si attivi anche con i propri bilanci cosa che è previsto dalla legge regionale la 45 2020 a cui ho fatto scendo prima e ha avanzato atti in questa direzione per cercare di utilizzare il fondo di riserva per cercare di utilizzare la terza manovra di bilancio che era l'attenzione del Consiglio regionale delle commissioni in queste settimane e in questi giorni ebbene da questo punto di vista l'atteggiamento del presidente Gianni non ci è piaciuto perché? Perché ha spostato l'intera attenzione sul livello nazionale sul quale niente da dire, siamo tutti d'accordo e siamo tutti a sollecitare perché questo intervento sia il più importante possibile e sia anche esteso ad ulteriori territori quantomeno ad ulteriori comuni al di là delle 5 province coperte ma questo non significa che la regione con le proprie risorse non possa intervenire a maggior regione in un quadro dove lì il decreto di emergenza è già di Valenza regionale quindi può andare a coprire situazioni che lo stato di emergenza nazionale ancora non copre non solo, abbiamo anche chiesto che ci sia una estensione degli effetti del decreto di emergenza regionale anche ai giorni precedenti, il 2 novembre, perché in realtà le vicende alluvionali sono partite dalla fine di ottobre evidentemente la regione è arrivata un pochino in ritardo ma questo non significa che chi ha avuto i danni il 30 e il 31 ottobre non abbia un piano diritto di vedersi risarcito e anche questo la Lega l'ha detto con atti in consiglio regionale la cosa davvero discutibile, anche molto criticabile è il fatto che da una parte una nostra proposta di risoluzione che prevedeva l'estensione a chi aveva ricevuto danni per gli episodi del 30-31 ottobre e a tutto il litorale toscano in particolar modo per le imprese, le attività, i balneari eccetera è stato votato all'unanimità in consiglio regionale poi il consiglio regionale dopo invece un atto che chiedeva formalmente l'applicazione della legge regionale 45-2020 quindi l'accesso al bilancio regionale a prescindere da quelli che saranno gli interventi del governo per poter mettere mano a risorse aggiuntive ulteriori invece è stato bocciato una situazione di contraddittorietà incomprensibile sul quale però noi non arretiamo di un centimetro perché continuiamo a fare battaglia e sotto questo profilo quindi abbiamo anche sostenuto che malgrado che il presidente Gianni sia in questo momento il commissario per l'emergenza riteniamo che però sotto il profilo invece di quello che sarà incaricato come commissario per la ricostruzione sia più adeguato un personaggio e un riferimento differente anche perché ci sembra piuttosto grave che si continui a far finta di nulla nel non vedere che c'è anche un livello regionale e anche risorse regionali che possono essere utilizzate la terza manovra di bilancio noi abbiamo chiesto che potesse essere utilizzata almeno in parte sottolineo questo aspetto perché ci sono state anche delle differenze con altri partiti perché? perché all'interno della terza manovra di bilancio ci sono delle partite che sono oggettivamente importanti dico in particolar modo essendo peraltro anche di Viareggio ma non è una questione di campanile è una questione di oggettività il sostegno al carnevale di Viareggio il sostegno al Pucciniano cioè il sostegno a tanti posti di lavoro a maggior ragione al Pucciniano che è proprio a Torre del Lago quelle stesse famiglie che hanno magari avuto i danni sono le stesse famiglie che lavorano col Pucciniano sottragli delle risorse sarebbe un errore quindi non condivido quello che è stato detto da altri partiti anche alleati diverso invece su alcune poste come dire, non urgenti penso a un intervento sul cimitero di non mi ricordo quale comune credo che invece si potesse stornare quelle risorse sul piano di chi ha avuto danni dall'alluvione certamente c'è tutta una serie di passaggi formali che non sono semplici questo è vero, va riconosciuto però noi, la Lega è lì pronta, attenta sul pezzo, in contatto con le comunità per far sì che la regione faccia tutta la sua parte e non rischi, come dire di dimenticarsi la sua parte per cercare di ributtare sulle spalle del governo in un ping pong politico che non è proprio opportuno la questione dell'aiuto a chi ha ricevuto così tanti danni Allora, abbiamo circa due minuti un minuto e mezzo ecco, un paio di minuti torniamo a Viareggio che è successo al porto? c'è stata un po' una problematica anche piuttosto rilevante su Viareggio più volte il consigliere Baldini è intervenuto anche per quanto riguarda l'autorità portuale però c'è stato un problema non secondario nei giorni scorsi sì, in qualche modo legato oggettivamente ai fenomeni alluvionali cioè quello che è successo ha portato anche l'insabbiamento del porto l'insabbiamento del porto di Viareggio ahimè una consuetudine perché il sabbiodotto che servirebbe a risolvere questo problema se ne parla da una vita il centro-sinistra regionale, comunale ne parla da una vita ma non lo realizza questa volta l'insabbiamento è stato talmente importante che in alcuni punti c'è 50 cm d'acqua e quindi si è incagliata l'ennesima imbarcazione chi opera nel porto non è in grado di lavorare da parte dell'autorità portuale sono state chieste risorse alla regione correttamente certamente io dico se il PD regionale e gli ex PD del comune di Viareggio la smettessero di litigare sull'autorità portuale che ahimè ad oggi ha sempre un commissario e non ha un segretario nella pienezza dei poteri perché queste compagini più o meno di sinistra come abbiamo detto prima continuano a litigarsi sulle poltrone quando siamo di fronte a problematiche serie di questa portata che vanno risolte credo che sarebbe l'ora giunta davvero l'ora che anche questo fosse risolto si mettesse da parte i contenziosi anche perché anche in tribunale questa vicenda e si andasse invece incontro all'esigenza dei problemi dei cittadini bene io ringrazio il consigliere regionale Massimiliano Baldini per la sua esaustiva analisi e noi ci vediamo la prossima settimana arrivederci a presto